Mi aspettavo una squadra forte e abbiamo trovato una squadra forte. Ero un po' preoccupato all'inizio della partita perché poi stamattina con la comunicazione dei due ragazzi positivi non è stato facile mantenere alta la concentrazione. Quindi i ragazzi sono stati bravi perché era una partita con molti ostacoli all'interno della stessa partita. Ma fa piacere, ma fa enormemente piacere. Io cerco di non prendere, sono i ragazzi, il merito va tutto ai ragazzi perché in campo ci stanno mettendo l'anima e quindi io cerco sempre di rimanere un po' defilato perché vedere una squadra correre in questa maniera e aiutarsi l'un per l'altro è bello, è importante. Quindi la scena è la loro. I complimenti fanno piacere. Oggi sono andato sotto i distinti perché è l'ultima partita che faremo con il pubblico e questo dispiace molto perché al gol di Harry ho sentito un boato e erano in pochi. Nel senso che per il fatto del coronavirus la capienza era limitata. Credo che questo stadio quando si anima di entusiasmo non so al gol cosa possa succedere e quindi dispiace molto. Lotteremo e questo è certo che noi lotteremo. Non so per quale obiettivo, questo sarà solo il tempo che lo dirà. Ma anche se ci saranno momenti difficili sono sicuro che questa squadra lotterà perché sono ragazzi eccezionali. Credo in questa filosofia, in questo tipo di calcio aggressivo in cui ci si aiuta, in cui si rincorre, si corre e si esce con la maglia sudata. E quindi a quella lettera quello che mi colpisce è la lotta e mi sento di dirlo, noi lotteremo sempre. Poi non so per quali obiettivi ma lotteremo sempre. Non era facile e significa che la mentalità c'è. Che la mentalità c'è, io credo che si possa sempre migliorare. Però questa squadra sta dimostrando di avere carattere anche nelle difficoltà, anche negli ostacoli. Cerca davanti all'ostacolo, cerca di non trovare la scusa. Cerca davanti all'ostacolo di non giustificare una mancata prestazione trovando una scusa. Oggi magari era plausibile trovare una scusa. Invece questa cosa di non cercare alibi sta entrando dentro i giocatori. E credo che quella sia la chiave, perché con l'umiltà giusta si può migliorare. Con la presunzione non si va da nessuna parte, ma perché non migliori? Invece noi vogliamo migliorare, possiamo migliorare. Questa squadra ha tanto ancora da dare.